Il perdurare della pandemia ha rallentato il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Se non si cambia rotta, l'Italia non li raggiungerà. Il Consorzio Tassano Servizi Territoriali ha preso a cuore il problema. Ha analizzato sei obiettivi su 17, i più attuali per il nostro territorio, con il metodo del World Café, sedendo attorno a un tavolo persone di diversa provenienza. Da quelli più vicini, idealmente a noi, del Consorzio in termini di cooperazione sociale legati all'Uelfar, i servizi sociali, sanitari, ma poi ci sono stati imprenditori, scuole, c'erano anche rappresentanti di professionisti, confindustria. Gli obiettivi strategici esaminati sono stati salute, lavoro, istruzione, parità di genere, disuguaglianze e città sostenibili. Il Tassano ha convogliato le idee emerse nel report Una Finestra sulla Realtà. Adesso dobbiamo dare gambe anche alle idee, alle proposte e alle azioni che si sono evidenziate in questo percorso. La Liguria, dice il rapporto ASVIS, è sopra la media rispetto ad altre regioni, ma c'è ancora da fare. Nei sei incontri del Consorzio sono emerse parole come fare rete, coprogettualità, partnership, insomma fare squadra. Ciascuno, terzo settore e non solo, dovrebbe perdere qualcosa di sé per il bene comune. In questi anni la lotta all'autoreferenzialità è già iniziata. Se effettivamente riusciamo a collaborare, a lavorare insieme, a costruire progettazioni comuni, ognuno non guardando solo se stesso, ma guardando l'obiettivo alla finalità generale, ovviamente questo ci permette sicuramente di fare un salto in avanti. E tutti possono fare qualcosa anche nel piccolo. Gli obiettivi dell'agenda sono enormi, ma ci riguardano. Questi obiettivi si raggiungono solo se tante persone lavorano insieme, soprattutto persone che arrivano da mondi diversi e portano una visione diversa.